Oggi è il 28 gennaio, siamo alla quinta giusto votazione, da lunedì in avanti noi aspettiamo questa fumata bianca che non c'è e c'è però qualcuno che comunque ha avviato delle scommesse, il Toto Presidente, dal circolo Don Camillo e Peppone, che cosa dice? Allora, noi è una cosa che facciamo da anni, abbiamo già fatto anche il Toto Papa, non solo il Toto Presidente, questa è purtroppo in tono minore per il fatto della pandemia, quindi abbiamo avuto molto meno votanti che hanno dato il loro pronostico però abbiamo avuto uno che ha detto anche, gente che ha detto casellati, quindi casellati che poi ho già saputo che oggi l'hanno crasata Comunque, noi ci divertiamo, noi ci divertiamo, siamo un circolo con 40 persone e non accettiamo soci se non muore qualcuno è un circolo che praticamente non esiste, è solo così perché noi sappiamo che facciamo parte di questo circolo Soci del circolo, ci sono persone anche importanti, comunque tutta gente con cui siamo amici che ci troviamo ogni tanto ci troviamo noi tanto, ci troviamo settimanalmente in un bar o nell'altro a Veinette, o bacco o rendezvous di Veinette e poi parliamo di tutto, di tutto, quindi politica, sport, calcio, poi noi abbiamo, oltre ad essere io il presidente ho un signore che fa tutto, che si chiama Occelli, lo chiamiamo il segretario, è il segretario del circolo che quando diciamo c'è da fare questo, da mettere su Facebook, da fare questo, lui provvede I pronostici secondo le votazioni, secondo i votanti del circolo, chi danno come favorito? Allora, favorito del circolo dice Draghi, io spero di no, spero che Draghi rimanga al suo posto però ci sono altri personaggi, io sarei anche dell'opinione di eleggere Frattini per esempio perché è un po' a metà tra i due schieramenti e via e invece la Casillati è una che era già andata a protestare contro i giudici a favore di Berlusconi quindi non mi pare super partes, quindi così Un'ultima battuta, il nome di Crosetto, del Cuneese, Crosetto è venuto fuori, che cosa ne pensate voi dal circolo? Da noi non è venuto fuori, poi noi siamo rispetto a Crosetto che è di una parte della provincia che noi non frequentiamo molto e poi, io dico il mio parere, allora, finché era con Berlusconi poteva ancora dare ma se va insieme alla Meloni io non sopporto più, quindi non mi piace